Nuovo appuntamento con Maledetta Politica e con Giuseppe Rippa per analisi e commenti su agenzieradicale.com. Geppi, questa settimana partiamo dalle polemiche e dalle voci che sono state alimentate in questa settimana sulle dimissioni da Napolitano e sul classico toto quirinale. Naturalmente in questo quadro si gioca sicuramente una partita molto importante a livello politico perché forse l'imprevisto dell'anticipo delle dimissioni di Napolitano ha rimescolato un po' i giochi all'interno della maggioranza, anche eventualmente le prospettive di Lenzi rispetto alle varie riforme, l'accelerazione che c'è adesso, l'esigenza di accelerare su alcune riforme elettorali, a cominciare dalla riforma elettorale. Cosa ne pensi di questo quadro e che partita si sta giocando? Diciamo subito che intorno alla vicenda della Presidenza della Repubblica vanno ricordate due cose che sono a mio avviso fondamentali. Quando c'è stato il voto il Presidente della Repubblica Napolitano aveva annunciato la sua intenzione di chiudere il mandato e quindi aveva completato un ciclo. È stato il disastro del voto, così come si è configurato con tutti i problemi che la sinistra e la destra hanno saputo esprimere, con la nascita di un terzo polo, quella di Grillo, la cui funzione poi negli mesi successivi, abbiamo visto, sia rivelata abbastanza inefficace a modificare questi equilibri, che ha reso necessario l'unica via d'uscita, cioè chiedere a Napolitano di proseguire il mandato. Napolitano aveva già annunciato che una volta affrontata alcune questioni di fondo intendeva ritornare per motivi relativi anche alla sua personale lettura delle situazioni, ma fondamentalmente anche all'età, tutto un insieme di fattori che coincidevano sul fatto che aveva prestato il proprio servizio allo Stato e riteneva di dover chiudere la partita. Adesso accade che in questi giorni ogni tanto torna in evidenza il fatto che le dimissioni di Napolitano dovrebbero svilupparsi o realizzarsi nel giro di qualche giorno, perché non è vero, Napolitano ha più volte ribadito che lui intende comunque rispettare il semestre e comunque creare le condizioni per cui non sia un effetto traumatico in questa scelta. Perché però viene fatta circolare questa voce? Viene fatta circolare questa voce, chiarito che Napolitano intende effettivamente chiudere il proprio ciclo di secondo mandato, caso primo nella vicenda della Repubblica Italiana e lo ha annunciato in aula all'atto in cui ha accettato, quindi non è che è un'improvvisa novità. In questa vicenda c'è naturalmente la possibilità che si possa andare al voto nella prossima primavera, perché la situazione non riesce a trovare una forma che consenta alla situazione di potersi configurare in una dinamica di equilibri in cui finalmente i problemi di governabilità oltre che di rappresentatività trovano una loro potenziale forma di sbocco. Perché viene riproposto questo tema? Evidentemente perché in una partita sotterranea sono molte le dinamiche che si scatenano, ma indubbiamente il ruolo di Napolitano va un attimo letto in questa chiave. Secondo me, a prescindere dal giudizio che può essere dato sul personaggio e sul soggetto politico napolitano, è stato un ruolo importante, perché comunque nel marasma che ci troviamo a vivere Napolitano ha mantenuto un punto d'equilibrio importante. Dove l'ha mantenuto questo punto d'equilibrio? All'interno di una situazione che ha visto il Presidente della Repubblica diventare sempre più il prodromo del presidenzialismo, più che il soggetto della garanzia costituzionale. Adesso però si parla, eccoci, c'è chi vuole il tagliatore di nastri, classico vecchio stampo e chi invece magari preferirebbe una figura che perpetua in certo senso un ruolo un po' più presidenzialista come lo ha fatto Napolitano. Anche qui si gioca un po' la partita della scelta con le diverse esigenze forse legittime di Renzi di non volere il disturbatore al Quirinale. Va bene, Renzi sta rimuovendo tutti i possibili ostacoli, i presunti detriti della partitocrazia. Io ho un giudizio un po' più particolare, che sul piano verbale Renzi sembra essere l'avamposto di questa operazione di rottamazione di pulizia. Sul piano sostanziale sembra uno dei tanti attori da rottamare, nonostante tutto, perché è figlio di una certa filigrano. Evidente che lui, pensando di occupare il potere a 360 gradi, governo, Presidenza della Repubblica, Europa eccetera, pensa che ci sia la soluzione del problema. È un disegno abbastanza leninista, che è quello che pensa che a livello di vertici si controlli la situazione. In un paese frantumato e le ragioni le abbiamo descritte in mille occasioni. È possibile che anche quello che tu dici è assolutamente all'ordine del giorno, cioè che una partita possa essere giocata anche in questa veste qui. D'altronde un candidato che possa avere queste caratteristiche non si trova. Certo deve trovare una Mogherini di turno da piazzare lì e fare, capisci, la rappresentanza del taglianastri. Non è così, perché la storia di questi ultimi anni ha visto una lenta ma inesorabile azione di occupazione a fronte della mancanza di governabilità della Presidenza della Repubblica. È un vero miracolo che una persona come Napolitano è riuscito a fare in modo che, pur muovendosi all'interno di questa obbligatorietà presidenzialistica, abbia mantenuto una traiettoria che in qualche modo ha salvato caprecavoli sul piano della forma, sul piano sostanziale. Certo, il Napolitano che manda il messaggio alle Camere sulla giustizia viene trattato come un qualunque fruttivendolo che vuole al mercato piazzare la sua merce, quindi viene abbandonato e ignorato. Quindi il presidenzialismo di Napolitano è assolutamente un presidenzialismo che mantiene la saggezza che in qualche misura ci ha consentito sul piano anche internazionale di non andare al macello, però contemporaneamente è iscritto all'interno della perversa logica che è appunto quella dell'illegalità che normalmente si consuma nel nostro Paese e che quando il Presidenza della Repubblica mette all'ordine del giorno un tema centrale negli equilibri anche della civiltà giuridica oltre che del governo del Paese viene immediatamente accantonato. Diciamo che però due aspetti vanno considerati, su questa vicenda del Presidenza della Repubblica si è consumata negli anni una storia lunga, ricordiamo lo scontro tragico tra Andreotti e Craxi che prepararono il terreno, non rendendosi conto del contesto internazionale che stava precipitando a una guerra civile interna tra loro e qui si aprì appunto l'attacco a Craxi che venne da una certa magistratura di Bergamo e poi di Milano e poi non perché la partitocrazia non contenesse e anche il PSI non fosse il prodromo di quella occupazione dei partiti e di avere propria dinamica di succhiare allo Stato le risorse più che rifornire ma quello è evidente e poi si aprì il contenzioso di Andreotti per quanto riguarda la Sicilia e la vicenda mafiosa, cioè su quel terreno si giocò uno scontro tragico in Italia non rendendosi conto che il contesto internazionale andava a mutande e quindi abbiamo in qualche misura accolto in termini negativi tutti gli aspetti che si possono immaginare. Il punto fondamentale è che questa procedura ha poi visto lentamente configurarsi un'azione che ha scaricato sulla Presidenza della Repubblica l'unico punto di tenuta di un contesto che si andava disgregando e quello è il concetto del presidenzialismo latente che non si è mai formalizzato in un atto costituzionalmente definito. Adesso lo si vorrebbe condurre di nuovo, ci siano i nomi, ci sia un'analisi politica, venga spiegato perché Napolitano è ad un tempo il salvatore della patria e anche uno che in qualche misura va riconsiderato come l'ultimo prodromo del presidenzialismo e qui nasce il sospetto a cui facevi anche riferimento che sembra quasi una visione con la quale un certo tipo di gruppo dirigente molto spesso finanziario che ha scelto questo Presidente del Consiglio, portatore di tante novità che poi non si sostanziano in niente, possa avere interessi a occupare mano militare l'intera situazione complessiva, naturalmente confermando la traiettoria storica di questo Paese, la democrazia fittizia, tutto cambia perché nulla cambia e quindi al massimo gli scontri avvengono tra i vari clan finanziari o i presunti clan finanziari, si dico presunti perché l'Italia conta come cavolo a merenda negli equilibri finanziari generali e quindi l'interesse può essere mirato a definire un controllo quasi onnicomprensivo, una sorta di strisciante autoritarismo che naturalmente fino a che i giochi si mantengono in questa veste può consentire la rappresentanza dell'operaismo, della protesta mantenuta sotto controllo delle dialettiche che abbiamo vissuto in questi anni, se dovesse assumere un carattere più rischioso allora quello sarà il momento in cui gli attori di un disegno antagonista ma non di chiave ribellistica fino a se stessa ma di chiave liberale verrebbero garrotati perché sono rischiosi al mantenimento di questi equilibri, siamo nel cuore e nella parabola di quello che io chiamo la società delle conseguenze, cioè della parabola post partitocratica con tutti i vizi della partitocrazia e non un'oncia di prospettiva di uscita dal declinio e dalla crisi in chiave democratica e non pericolosamente restrittiva di libertà. Facciamo un salto all'estero su questioni che comunque ci riguardano direttamente, essendo un paese fortemente dipendente dal punto di vista energetico dall'esportazione, la guerra del gas cosiddetta tra Russia e Unione Europea che si è un po' rinvigorita in questo periodo ci interessa particolarmente, stasettimana si è parlato molto del gasdotto South Stream dove è un progetto che vede l'Eni e l'Italia quindi in prima fila nell'investimento, la Russia o Putin comunque ha cercato di strappare probabilmente altre cose rispetto alla UE e quindi ci troviamo in una situazione un po' di impasta da questo punto di vista. Però un dato fondamentale la guerra del gas che poi si allarga tutta la vicenda dell'Ucraina e le tensioni che si stanno avendo in questi ultimi mesi non può non considerare un aspetto fondamentale secondo il mio punto di vista. È vero che l'Europa e in un certo senso l'Italia è dipendente dalla Russia per le fonti energetiche, però forse, anzi sicuramente è più la Russia ad essere dipendente dall'Europa, quindi c'è una sorta di interdipendenza da questo punto di vista perché l'Europa, c'è un dato fondamentale che nel 2013 il 18% del PIL russo dipende dalle esportazioni di fonti energetiche che dall'Europa. Quindi è evidente che in questo quadro c'è bisogno al di là dei progetti o comunque dell'idealismo avere i piedi per terra e fare i conti con la realtà, una realtà che comunque al di là della diversificazione che si vuole fare o comunque sia dalla parte della Russia che magari vuole diversificare e guardare altrove, ma anche l'Europa cercare di diversificare, si spera anche con un'idea comune di Europa e quindi anche di politica energetica, sta di fatto che almeno nel medio periodo bisogna fare i conti con questa realtà. Anzitutto vediamo se è vero che le politiche di embargo verso la Russia che sono il frutto del ragionamento o presunto ragionamento europeo e occidentale con gli Stati Uniti ha qualche risultato, le politiche di embargo non hanno mai portato a niente che sia fruttuoso rispetto agli equilibri in quanto tale, però un dato di fatto incomincia ad emergere, è vero che la Russia può minacciare di chiudere gli approvvigionamenti energetici, però ho l'impressione che proprio in relazione alle notizie che tu sei soffornibile, sul fatto che c'è un abbassamento del prezzo dell'energia che è il prodotto anche di una scelta strategica, è altrettanto evidente che la Russia ha dei problemi proprio di tenuta sua interna proprio di economia, cioè un'economia che sembra così Florida in realtà si nutre soltanto della vendita del gas, non risolve i suoi problemi minacciando l'Europa e poi pensando che l'asse si realizza con la Turchia ovvero con la Cina, perché la Turchia è un fatto momentaneo giocato per minacciare chi che sia, e con la Cina ho dei seri dubbi che tra Russia e Cina vi possa essere un disegno strategico comune che miri di fatto ad escludere tutto il resto dell'Occidente, perché comunque c'è bisogno di mercati che portano in qualche misura o a vendere il petrolio o a vendere le materie prime che vengono prodotte, altrimenti sta roba che ne fanno, oltre al fatto che esistono considerazioni storiche, antiche che vedono sicuramente il potenziale conflitto tra Russia e Cina più che un accordo strategico per egemonizzare il mondo. Detto questo, il punto fondamentale che anche su Stavstream è assolutamente evidente che in questo caso qui non è soltanto la Russia che ha detto no a questa cosa, i costi sono limitati al massimo, non si è capito se questo era il disegno strategico, era un tentativo da parte della Russia di incapsulare anche una serie di interessi europei in modo tale da poter tenere un controllo e una unicità di segni, si potrebbe dire che in questa direzione proprio la diversificazione a cui facevi riferimento ci porta per esempio a pensare che tutta la vicenda del Caucaso potrebbe essere invece la vera piattaforma su cui si svilupperà il conflitto in quanto tale, sulla quale la Russia ha già messo gli occhi addosso con tutte le situazioni che abbiamo visto negli anni scorsi della Georgia, poi la vicenda armenia, l'occupazione dell'Armenia, il Nagorno-Karabakh, la vicenda Azzera e anche il fatto che attraverso il Caucaso si apre la strada a quelli che possono essere gli approvvigionamenti energetici che vengono dall'Asia. Insomma diciamo una piattaforma che non rende così chiaro il filone e la filiera che porta a pensare che la Russia possa essere, pur avendo creato e creando dei problemi, nati da una stupidata, quella dell'embargo, possa essere l'unica che se ne approfitti. La verità è che la Russia secondo me è oggi in difficoltà, è vero che la sua arroganza l'abbia spinto anche negli anni della Georgia a riconoscere alcuni piccoli spazi territoriali come paesi ed essendo l'unica che li riconosce. Fa parte della sua vecchia cultura imperiale, ma una cultura imperiale che non ha dato grandi risultati sul piano storico. Quindi diciamo che è una partita sulla quale gli unici elementi certi dovrebbero essere un'Europa che su questo terreno potrebbe incominciare a darsi una forma di soggetto politico e di Stato europeo in termini di compattezza e di unità e quindi incominciare non ad essere arrogante, ma incominciare ad avere una forza contrattuale che non sia quella di subalternità o di frantumazione sulla quale gli altri possono giocare. In secondo luogo avere una visione strategica molto meno asfittica di quello che si consuma in questo momento e sulla quale si pensa alla diversificazione non soltanto attraverso la vicenda del Caucaso, ma anche attraverso tutto il quadro del Nord Africa che potrebbe essere un'altra fonte di approvvigionamento. Insomma diciamo che il nucleo centrale resta, dal mio punto di vista e senza nessuna vocazione egemonica, la compattezza dell'Europa e la definizione dell'Europa politica che ancora tuttora manca e purtroppo si sono fatti passi indietro o non passi in avanti, è un asse con il fronte occidentale degli Stati Uniti che non significa un asse egemonico, ma un asse che sappia creare le condizioni di un nuovo scenario nel quale la mappa del mondo venga costruita in modo più equilibrato. Questo in qualche misura attenuerebbe anche i fastidi russi che possono essere in parte anche comprensibili, in fondo si ritiene che la Crimea, l'Ucraina erano possedimenti loro e loro non accettino l'invicinanza del loro paese e che ci sia una sottrazione. Sono elementi che possono essere costruiti all'interno di un'ipotesi federativa, in un'ipotesi nella quale si prepara anche una strada che può essere di qui a un cinquantennio, un sessantennio, un settantennio, una possibilità che la Russia sia parte dell'Europa, perché storicamente e culturalmente è in questa direzione. Un sogno potrebbe anche essere, ma sicuramente smettiamola di leggere le situazioni dentro degli interessi anche abbastanza miserevoli. Per esempio ho visto telegiornali di Stato italiani dire che la minaccia russa stava colpendo perché avremmo pagato un prezzo enorme. Non è vero, perché la chiusura di South Stream non significa affatto questo sostanzialmente. Significa che sono anche di riflessi russi, come ho già accennato, e significa anche che c'è una situazione molto più complicata di quanto si possa immaginare, e cioè una situazione nella quale i presupposti sono quelli più volte ribaditi. Se non c'è un'Europa unita, non c'è un attore in grado di poter portare un contributo, che sia un contributo equilibrato alla definizione di una nuova mappa del mondo. Non possiamo forse fare un accenno a quello che sta succedendo in questi giorni che riguarda la Roma e le inchieste sulle infiltrazioni mafiose, questo sistema mafioso capitolino. Forse in attesa di capire un po' gli sviluppi della situazione, il dato che emerge sicuramente da questo increnimento della situazione è l'assenza della politica, fino all'inizio degli anni 90 che si è creata questa situazione per cui la politica è venuta meno, comunque ha lasciato spazio, si è lasciato spazio ad altro e in questo altro ci sono infilati elementi malavitosi. È molto più semplice da un certo punto di vista l'infiltrazione mafiosa, forse perché viene meno l'elemento politico. Diciamo che questo tema lo trattiamo, casomai, in una prossima puntata in cui facciamo il punto più serrato su questa vicenda romana. Quello che affermavi era quello che io penso essere il nucleo centrale della situazione. Quando all'inizio degli anni 90 è stata ammazzata la politica, il titolo di un libro che con Luigi Rintallo preparammo, di fatto si è creata una situazione ed era un omicidio quasi cercato dalla politica che aveva assunto una dimensione di occupazione dello Stato, di occupazione delle risorse e quindi la politica aveva smarrito quello che era il senso strategico che riguarda la vita di ognuno e delle collettività, cioè una linea di analisi, interpretazione, scelte, indirizzi e giudizi sulle scelte fatte. Invece avendo occupato lo spazio di gestione la politica è finita nelle mire di un'impotenza che di fatto poi ha prodotto questo meccanismo, l'omicidio della politica, cercato anche dalla politica stessa e dall'altra parte abbiamo che cosa? Abbiamo il fatto che i soggetti che oggi hanno la gestione, in particolare in un paese come il nostro, post partitocratico, ma di fatto ancora partitocratico nei suoi gangli, che non ha smarrito per niente tutta la perversione che la partitocrazia ha distribuito nel paese, tant'è che sono rimasti intatti tutti i nuclei amministrativi, i modi in cui sono stati assunti nell'amministrazione, tutti gli attori anche diciamo di gestione in quanto tale, sulla quale naturalmente la malavita organizzata ha inserito il proprio disegno politico, che è un disegno egemonico, perverso, di violenza e di assassino della legalità. Questa è la ragione per cui l'organismo Italia non è in grado di esprimere una politica di superamento della crisi, perché è ancora infettato da tutti gli strumenti che ammazzano i globuli rossi che dovrebbero essere i produttori di una gestione della complessa trama di una collettività che in qualche modo è fatta anche di contraddizioni, ma che trova anche delle risposte dentro un metodo che dovrebbe essere liberale. Ritorneremo a ragionare su Roma e ci torneremo facendo proprio una riflessione adeguata su quello che è oggi la rivelazione, ma che rivelazione non è, che fossero le realtà comunali, le realtà amministrative gestite in una dinamica che sempre più aveva rifornito i soggetti amministrativi di una certa funzione e che se questi soggetti più facile era l'aggressione sia dei soggetti finanziari, ma fondamentalmente dei soggetti spregiudicati della malavita organizzata, era abbastanza prevedibile. Adesso emerge e in qualche misura conferma l'interpretazione giusta che avevamo dato del processo partitocratico italiano. E con questo chiudiamo il numero di maledetta politica. Appuntamento alla prossima settimana.